Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Era pronto in magazzino per la consegna, ma non si trattava di un pacco merci qualunque, bensì di un collo contenente 4 kg di marijuana. È stato fiutato dal cane antidroga della Guardia di Finanza di Civita Nova Marche. Nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a una serie di attività di controllo presso i magazzini di alcune società di spedizione nel Maceratese. I finanzieri, con l'ausilio dell'unità cinofile, hanno sottoposto a verifica diversi pacchi destinati alla spedizione, in attesa di essere consegnati ai destinatari. Nel corso di uno di questi interventi, la Guardia di Finanza ha seguito l'insistente segnalazione da parte del cane Edir verso un pacco ritenuto sospetto. Chiesta autorizzazione al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Macerata, la scatola è stata aperta. I finanzieri hanno rinvenuto al suo interno ben 4 chili di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre il destinatario del plico, una volta individuato, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Un'operazione, quella condotta dalla Guardia di Finanza di Civita Nova, che rientra nel più ampio servizio di contrasto al traffico di droga. Le fiamme gialle proseguono la loro attività con costante impegno.